ii madama firmino decise che avrebbe impiegato le ore del pomeriggio a fare un bagno di sole la terapia con l'ipermia non appartiene soltanto alla scienza medica essa è anche uno dei canoni sacrosanti dell'estetica femminile inoltre può costituire una piacevole distrazione orbene quel giorno che era il 9 marzo madama firmino si trovava appunto a non avere altro mezzo per occupare piacevolmente il proprio tempo avrebbe potuto naturalmente scendere nei saloni e assistere alla sfilata dei nuovi modelli primaverili della casa o'brien ma quei modelli era stata lei a immaginarli a crearli essi erano nati sotto i suoi occhi ed ella li amava mentre non amava affatto le donne che sarebbero venute a vederli a desiderarli ad acquistarli no veramente ella non poteva pensare che uno solo di quei modelli concepiti e creati per le armoniche agevoli membra di un'indossatrice si sarebbe andato a deformare sul corpo obeso o flaccido tozzo forse sbilenco di una qualsiasi di quelle signore che lo avrebbe posseduto unicamente perché aveva il denaro per pagarlo da un anno ormai lei era la direttrice artistica della casa o'brien di cui aveva fatto la fama e non mai aveva assistito alla presentazione delle nuove collezioni carne della sua carne sangue del suo sangue alle 15 dopo aver dato gli ultimi consigli alle tre indossatrici e alle due maestre che le avrebbero vestite ella si era retirata nelle sue stanze all'ultimo piano del fabbricato di corso del littorio dove aveva sede la casa di mode e dove ella alloggiava assieme a cristiana o'brien e alle 15 e 30 aveva iniziato la cura di sole il sole non c'era perlomeno dentro la camera e neppure l'acqua e neppure la sabbia c'era un vasto e soffice tappeto bianco un grosso e lucente apparecchio eleoterapico a raggi ultravioletti con un rotondo e splendido riflettore parabolico e c'era soprattutto la signorina dolores de lanei da tutti conosciuta col nome di madama firmino in costume da bagno giallo a righe nere sdraiata sul tappeto con gli occhiali di celluloide bianca a vetri azzurri ella si faceva arrosolare le spalle e la schiena ai raggi benefici della macchina sembrava uno strano animale nato dall'incrocio di uno scimmiotto con una zebra la zebra c'entrava previa del costume il resto capelli platinati, piccolo naso triangolare, mento lungo, pomelli sporgenti labbra tumide, occhi piccini, nell'incavo vasto sotto le sopracciglia depilate aveva anche normalmente qualche apprezzabile caratteristica scimmiesca trascorsi i 45 minuti prescritti madama firmino stava per mettersi supina sul tappeto ad esporre dopo la schiena il petto e il volto ai raggi rigeneratori quando uno strano rumore le fece interrompere l'evoluzione a metà era stato un colpo sordo per il quale anche il pavimento aveva come vibrato la donna balzò in piedi con un agile salto e si tolse gli occhiali le guance e il collo stratificati di olio balsamico le lucevano untuosi senza ragione e senza logica poiché non potevano non poggiar solidamente sulle loro colonnine quadrate ella pensò che fosse caduta una delle erme del corridoio andò alla porta l'aprì tutte le erme stavano ritte immobili coi volti fauneschi che ella vedeva di profilo fissi il più limpido il più placido silenzio regnava attorno a esse eppure il tonfu si era udito nettamente dolores avanzò coi sandali di corda sulle mattonelle bianche e nere lucide come specchi procedeva con ogni senso in agguato arrivò alla porta di cristiana e la vide aperta in mezzo alla stanza una grande macchia porporina riconobbe subito cristiana distesa e inanimata fece per affrettarsi verso di lei quando lo sguardo le cadde sul letto un uomo vi giaceva a braccia aperte a gambe divaricate un po' di traverso come gettatovi da un'ondata in un naufragio aveva gli occhi spalancati ed essi erano vitrei dolores nella sua prima giovinezza aveva assistito al tragico incendio di un grande bazar e aveva veduto molti cadaveri asfissiati dal fumo e dalla calca tutti avevano quello sguardo vitreo quell'aspetto di marionetta disarticolata non esitò un istante quindi a rendersi conto che quello era un uomo morto rimaneva il problema sconcertante della ragione della sua morte oh molti altri problemi rimanevano si avvicinò al letto con precauzione lentamente questo sì che era un bel pasticcio e proprio in una giornata di esposizione ma come mai Cristiano O'Brien invece di essere nei saloni a sorvegliare le indossatrici a scrutare le reazioni delle clienti si trovava svenuta nella sua camera col cadavere di un uomo sul proprio letto adesso madama Firmino vedeva il volto del morto oltre che i suoi occhi sbarrati un bel giovane un ragazzo quasi lineamenti sottili stranamente regolari capelli nerissimi lunghi gettati all'indietro e ora un po' scomposti naturalmente lo sguardo di Dolores scese ai particolari del vestito che era di panno turchino camicia azzura di seta cravatta turchina anch'essa opaca pesante sulla coltre di damasco grigio del letto le mani aperte del morto apparivano pienotte e piccole prive di espressione mani senza energia erano senza muscoli tornò a fissare il volto ma ecco sicuro come aveva fatto a non riconoscerlo subito certo a causa di quello sguardo fisso nessuno sapeva meglio di lei che era artista quanto lo sguardo possa mutare in fisionomia si tolse con sforzo dalla contemplazione malsana che l'aveva tenuta immobile affascinandola ma com'era morto quel ragazzo? chi avrebbe potuto volere la sua morte? e cristiana? si volse con un movimento rapido e si chinò sulla donna distesa in terra la toccò alle guance e le prese il polso non si trattava che di un deliquio cristiana era assolutamente viva madama firmino si sollevò sentiva uno strano senso di oppressione all'osterno quasi un impeto di nausea in fondo le sue forze erano limitate e non doveva dimenticare d'aver interrotto a metà la cura di permia elettrica sarebbe stato buffo che fosse svenuta anche lei come quei soldatini di piombo messi in fila quando si rovescia il primo cadono tutti uno dopo l'altro si raddrizzò si passò le mani sulle anche cercò di respirare profondamente doveva agire adesso ma in qual modo? attaccarsi al telefono interno? chiamare Marta avvertire le maestre e far salire il segretario quel comico segretario con la sua eterna reddingot nera? certo avrebbe dovuto perlomeno far questo ma significava dar l'allarme gettare il panico in tutta la casa far scoppiare lo scandalo nei saloni ecco in ogni modo per prima cosa occorreva occuparsi di Cristiana farla rinvenire sentirla parlare Cristiana non si muoveva respirava sì ma assai debolmente con un respiro interrotto che a tratti si faceva gorgoglio irresistibilmente gli sguardi di madama Firmino tornarono al cadavere e questa volta vide vide il collo esile del morto come aveva fatto a non vederlo subito strangolato tentò di trattenersi ma un grido mozzo le uscì dalla gola ed ella fuggì nel corridoio si trovò circondata dalle erme corse verso l'ascensore incredibile a un tratto si ricordò d'essere in costume da bagno nero e giallo quel costume che le dava l'apparenza di una zebra e per quale miracolo potesse tornare nella sua camera afferrare una vestaglia infilarsela stringersela alla cintola col cordone e poi gettarsi di nuovo nel corridoio madama Firmino non seppe mai rimanere